Mare o montagna? Mare. Montagna. Cane o gatto? Cane. Pizza o sushi? Sushi. E chi tiene la contabilità? Lei! Io sono Silvia Ghezzi, fondatrice di Caseospitali.it. Io sono Antonella Brugnola, manager di Caseospitali.it. Per noi l'ospitalità è un'estrema attenzione ai bisogni dei nostri ospiti. Anche se sono piccoli, infatti li accogliamo con un cesto di libri e dei giocattoli per farli divertire. E li accogliamo anche con delle cialde di caffè italiano e delle bustine di tè. E se poi arrivano cani e gatti a seguito della famiglia, che facciamo Silvia? Li accogliamo. A braccia aperte, perché per noi questa è l'ospitalità all'italiana. Siamo delle property manager. Cioè gestiamo case di privati con gli affitti turistici. Siamo una piccola squadra, agile e veloce. Non abbiamo bisogno di grandi infrastrutture. E infatti non abbiamo neanche un ufficio. Noi giriamo per le nostre case. Certo, perché dobbiamo accogliere i nostri ospiti e preparare gli appartamenti per regalare dei fantastici soggiorni. La gestione operativa del nostro lavoro, così in mobilità, non sarebbe possibile senza piattaforme e software in cloud. Fattura in cloud, per esempio, è stato un nostro compagno di viaggio fin dall'inizio, anche quando gestivamo poche case. Guarda, è davvero tutto molto facile. Emettere le fatture per i nostri ospiti e registrare le fatture dei nostri fornitori, che con la fatturazione elettronica arrivano tutte già all'interno del sistema, è veramente facilissimo. Sì, così registrare incassi e pagamenti è veramente una questione di pochi click. E tutto torna, sempre. Certo, basta asportare il file dalla banca, importarlo in fatture in cloud e con la riconciliazione bancaria è fatta. In un attimo. Per noi fatture in cloud è proprio come un bel bicchiere d'acqua frizzante. Sì, con un po' di ghiaccio che ti fa andare giù tutta la contabilità. Un consiglio che darei alla me stessa all'inizio della carriera? Sicuramente imparare benissimo l'organizzazione del lavoro. E tu? Beh, io per esempio vorrei utilizzare fin dall'inizio tutte le tecnologie digitali a disposizione. Vero, e anche trovare dei partner affidabili. Come tu hai trovato me, infatti. Certo che sì.